Allora siamo con Viviana Spano, come è andata questa due giorni di qualifica? Ci dicevi che non stai al massimo della forma, non tanto per gli allenamenti ma perché hai qualche grado di febbre? Un pochetto sì, ieri dopo la qualifica ho finito la qualifica con la febbre, poi diciamo che oggi mi sono ripresa e ho recuperato i punti che ho perso ieri. Quindi in fondo è andata bene per quelle che sono un po' le tue condizioni attuali? Sì sì, direi di sì, ieri potevo fare qualcosina in più però vabbè, vediamo un po', ci sono i prossimi giorni. Che cosa ti aspetti da queste eliminatorie visto che è una nuova formula di gara? Direi di provare a tirare al meglio, poi quel che sarà, sarà. Noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Alex Boggiatto, allora per te questo mondiale con Pound Junior, intanto diciamolo, intanto l'emozione di vestire la maglia della nazionale che immagino per un'atleta giovane sia sempre importante. Dopodiché qual è il tuo giudizio su questi primi due giorni di qualifica e cosa ti aspetti dall'eliminatoria? Ma sì, è sempre un onore portare la maglia dell'Italia, ormai dopo tre anni potrei anche dire di essermi abituato ma non è così, è sempre un'esperienza fantastica e bella. E dopo questo il mondiale in questi due giorni, bello, ottimi percorsi, non troppo difficili, molto lunghi, molto lunghi e stancanti, soprattutto quello di ieri. Avrei preteso un po' di più da oggi ma non è stato così, sono contento comunque per essere riuscito a riprendermi verso la fine e aver compreso i miei errori di oggi. Un grande in bocca al lupo per queste eliminatorie, che cosa ti aspetti in fondo a questo mondiale? Mi aspetto come si aspettano tutti una medaglia, penso, perché tutti puntiamo a quello. Poi, non lo so, sono ansioso di provare questo nuovo regolamento messo in atto quest'anno. Il vecchio l'ho provato solo un anno l'anno scorso all'europeo, però questo nuovo mi piace e sono ansioso di vedere cosa succederà. Un grande in bocca al lupo anche a te. Grazie.